Non sono serviti appelli e interrogazioni parlamentari prese di posizione dalla Giunta regionale e degli amministratori locali per far desistere Tirrenia dal cancellare a partire da domani, 14 settembre, la tratta marittima Civitavecchia Arbatax-Cagliari. La compagnia di navigazione ha giustificato la decisione col fatto che dal punto di vista economico sia poco remunerativa. Questo perché, al di là dei mesi estivi, c'è un ridotto numero di passeggeri e di merci che la rendono poco interessante sotto il profilo commerciale. Con la cancellazione della linea marittima, di fatto l'Ogliastra perde l'unico collegamento diretto con la penisola, mentre il sud Sardegna non ne ha più uno diretto con il Lazio, anche se rimangono quelli gestiti da Grimaldi con Napoli e Palermo. Una decisione, quella della Terrenia, del tutto legittima dal momento che la convenzione con lo Stato in regime di continuità marittima è scaduta da tempo e non è stata rinnovata. Adesso si cercherà di correre al ripare, aumentando la pressione sul governo, affinché sia attivi per rinnovare la Convenzione sulla continuità marittima e garantirla su tutte le tratte dalla Sardegna alla penisola. Nei giorni scorsi, i deputati di Forza Italia, Pietro Pitales e Ugo Capellaci, avevano ribadito la richiesta di trasferire le funzioni e le risorse della continuità marittima dallo Stato alla Regione Sardegna, così come previsto da una proposta di legge presentata nel 2018. Questo in modo tale che l'isola possa essere davvero artefice delle scelte in materia. Speriamo che le ultime vicende abbiano aperto gli occhi anche a coloro i quali, più o meno consapevolmente, si sono prestati alla conservazione di un sistema che non funzionava e che la Sardegna, unita, concludono Cappellaci e Pitales, possa vincere questa battaglia di libertà.